La Cassazione riguardo al processo Meredith ha rilevato enormi lacune nell'inchiesta che hanno portato a ribaltare la sentenza e dire che i due ragazzi incriminati per l'assassinio addirittura non erano lì perché non ci sono minime tracce di DNA. L'unica traccia che era nel coltello di lui, nel DNA di lei, è diventata irrilevante. Irripetibile, quindi non si può. L'avvocato Angiolini ha da dire qualcosa su questo processo. Sì, devo dire che prima di tutto è stata una cosa direi a dir poco superficiale, se non vergognosa, il modo in cui sono state condotte le indagini. Non so per quale motivo sono state condotte così male e sono state anche eliminate tracce, quindi prove, che potevano stabilire fin da subito che questi due ragazzi evidentemente non c'entravano nulla. Due ragazzi che adesso possono intentare una causa per ingiusta detenzione per i quattro anni di carcere? Sì, sicuramente, però qualsiasi cifra gli possa venire liquidata, che poi sono sempre soldi di noi contribuenti, comunque non rimedia mai al fatto che questi ragazzi giovani si sono fatti quattro anni di galera e poi con una accusa terrificante di omicidio volontario per cui è previsto l'ergastolo. Quindi, insomma, devo dire che in questo caso non solo la magistratura, perché la magistratura giudica sulla base degli elementi che ha, però chi ha fatto le indagini veramente l'ha fatto in un modo a dir poco leggero. Allora, un'altra cosa clamorosa è la figura di merda che facciamo, come solita, come italiani. Sì, anche di fronte degli americani e del mondo. Certamente. E poi c'è anche un'altra cosa da dire. Pensate quanto sono costati tutti questi processi. E sapete chi l'ha pagati tutti questi processi? I contribuenti italiani. E il risarcimento che verrà dato a questi due ragazzi. Sapete chi li paga? I contribuenti italiani. Noi siamo veramente stufi. Scusa, Rossella, l'unico condannato rimane Rudy Gede, che ha 16 anni per omicidio in concorso. E' in concorso con chi, se questi due non c'erano. Quindi ad Arretta bisognerebbe anche rivedere quel processo. Oppure fare un concorso per chi... No, cercano tanti. Io voglio dire riaprire il processo. Lui invece di fare un concorso per assassini. Ah, ecco, ho capito. Quando fanno quelli per vigili urbani si presentano tanti. Sì, anche quelli per l'aliposto si presentano tanti. Può darsi che anche lui da qualche parte lo prendano. Bene. Bene. Questa è la giustizia italiana. Bene, insomma bene. Bene, mica tanto bene. Male, direi proprio male. Male, male, male. Male, male. Benissimo. Tutto.